E' ufficiale, Roberto Taurino è il nuovo allenatore della Virtus Francavilla, il presidente Antonio Magri ha sciolto la riserva puntando con decisione su un uomo che ha partecipato attivamente al miracolo Virtus di questi anni. Per Taurino infatti si tratta di un ritorno, essendo già stato calciatore e capitano della Virtus, vincendo il campionato di eccellenza e il campionato di Serie D, una Coppa Italia regionale e una Coppa Italia nazionale, concludendo la sua carriera da calciatore, proprio in bianco azzurro. Da allenatore ha iniziato la sua carriera nella stagione 2016-2017 come vice di Antonio Calabro, raggiungendo uno storico quinto posto in classifica in Serie C. Poi le avventure con Nardò e Bitonto, la vittoria del campionato di Serie D nell'anno della sospensione dei tornei per l'emergenza Covid e la recente sfortunata esperienza con la Viterbese. Taurino è già al lavoro, assieme al presidente Antonio Magri e all'intera dirigenza per costruire il Francavilla del futuro. Si ripartirà da gente che ha fame, con l'intenzione di ricreare l'atmosfera e lo spirito che hanno fatto grande questa realtà.